let's go bitches bene questo video un po' da quello che avrete capito è un video per spiegarvi che non continuerò a fare video su questo canale perché ci sono tante motivazioni la prima è perché ho cambiato partnership ed essendo con machine men non potendo riscendere il contratto sono stato costretto a cambiare canale a crearne un nuovo ma perché l'ho fatto questo perché la partnership con cui sono mi vuole aiutare comunque a farmi conoscere comunque a divulgare quello che è il motivo per cui io sono qui su youtube per cercare di far conoscere il competitive i giochi competitivi al momento per console solamente a tutti voi dato che in italia è una cosa che viene trattata marginalmente forse sono uno dei pochi se non l'unico a trattarlo e molti di voi penseranno eh power ma tu con questo nuovo canale vuoi iniziare anche altri giochi non voglio iniziare altri giochi in verità e sto invece cercando altri giochi che siano competitivi che quindi richiedono una certa skill una certa abilità e un certo teamwork e destiny per esempio si presta a questo come allo stesso call of duty advanced warfare che ci sarà ma allo stesso cost perché sì ho comprato la ps4 e su questo canale inizierà un nuovo format di video che riguarderà anche code quindi ragazzi non vi preoccupate ci saranno video su code sia su xbox one sia su 360 sia su ps4 non ho la ps3 ne manca una però non importa comunque quindi non vi preoccupate code non verrà te la lasciato ma code non sarà l'unico gioco eh per quanto riguarda poi quale sarà il mio gioco in cui mi butterò competitivamente con tutto me stesso non lo so ancora eh sinceramente il code advanced warfare sembra una grande promessa perché ci sarà il code war championship eh però allo stesso tempo mi tentano molto destiny e halo con la master chief collection perché halo con la master chief collection beh ci gioco da quando sono piccolo sono sempre stato alla fine un fan sfegatato di halo e sinceramente mettermi a fare tornei a lan su halo sarebbe una cosa fighissima allo stesso modo destiny eh dal gameplay che ora state vedendo sul mio nuovo canale perché sì inizierò il mio nuovo canale con dei video di destiny per poi eh metterci accanto video di ghost video poi eh ovviamente sempre di destiny in questo caso perché c'è la beta vabbè e più avanti video anche magari di altri giochi vedrò però principalmente come vedete anche dal banner i giochi principali sono quei due per ora vedremo se aggiungerne magari un terzo quindi ancora non si sa questo perché io chiedesse qui sotto ma power è preso la playstation 4 perché il competitive si sposterà no ragazzi il competitive non si sposterà o almeno non ancora ci sono dei rumors non è sicuro che nel prossimo gioco della tray arc nel circuito mlg o almeno eh in quello che è il diciamo nelle LAN negli eventi nei tornei offline sarà la playstation 4 ma non è sicuro sono voci di corridoio quindi ficcatevelo bene in testa e oltre a questo vi invito tutti a passare su quello che è il mio nuovo canale che è pow3r power proprio scritto normale quindi senza tv in questo caso e vi consiglio di passare tutti per iscrivervi in modo così da rimanere sintonizzati con quelli che saranno i nuovi video di call of duty di destiny e così via eh spero vi piaccia questa cosa che ho cambiato canale che ripartirò con un nuovo format di video eh ho bisogno del vostro aiuto per ovviamente ritornare come era qualche mese fa diciamo sul mio canale quindi spero che verrete a iscrivervi e ricordatevi pow3r power ma c'è il link qui sotto quindi non vi preoccupate quindi ragazzi questo non è un addio perché forse il canale verrà riutilizzato non lo so magari continuerò a farci qualche video ogni tanto in modo che così vi ricordiate per chi di voi è pigro e magari si vede un video a settimana e non un video al giorno come dovrebbe come nel mio caso quindi non vi preoccupate vedrò di ricordarvelo se non siete stati sintonizzati abbastanza lungo mi raccomando spargete la voce ai vostri amici e ai vostri familiari cerciate di iscrivervi al canale nuovo di power per nuovi video e nuove bellissime cose let's go bitches ciao Grazie a tutti